Bentornati cari amici di West Magazine! Ricordate come nella scorsa puntata abbiamo investito quel piccolo gruzzolo tanto faticosamente guadagnato durante una noiosissima exploration? Ebbene, grazie ad inattesi e lucrosissimi sviluppi, vado ora a presentarvi la guida definitiva per fare soldi e diventare ricchi su Elite Dangerous a fronte di un minimo investimento. Vi farò vedere come grazie a questa strategia, in meno di una settimana ho trasformato 70 milioni di crediti in un miliardo, ho ottenuto il rank di Elite nel commercio e di conseguenza il Founders World Permit che mi consente di accedere al sistema Shinrar Tadezra con beni di lusso rari e prezzi scontati e tutte le navi e tutti i moduli in vendita. Bello comodo, eh? Il bello è che ora che ho capito il trucco posso dirvi come fare anche se avete meno di 70 milioni da investire. Forse bastano anche 50 o addirittura meno. Allora, ecco com'è andata. Dopo essere tornato dall'exploration ed aver venduto le mappe, avevo questi 70 milioni che mi bruciavano la tasca e quindi ho pensato di investirli in una nave per il trasporto di passeggeri. Mi sembrava un'idea carina e rilassante. Naturalmente non avevo la minima idea di come gestire al meglio un'agenzia di voli charter, così all'inizio affrontai la cosa in modo davvero poco efficiente, viaggiando con la nave mezzavuota e ignorando persino che nel passenger board potete scorrere gli agenti nella colonna sinistra per scegliere altre missioni. Col passare del tempo cominciai a capire che se volevo far fruttare davvero questa attività avrei dovuto viaggiare con la nave piena e possibilmente verso un'unica destinazione il più vicina possibile al punto di partenza. Per fare questo avevo bisogno di un'ampia scelta di missioni. All'inizio la vostra scelta sarà limitata dato che occorre aumentare la vostra reputation con ciascuno degli agenti che vi propone i contratti per i passeggeri o comunque con ciascuna delle fazioni alle quali appartengono questi agenti. La reputation si alza facendo missioni, in questo caso trasportando i passeggeri quindi. Quando completate un trasporto vi verrà chiesto di scegliere fra tre ricompense diverse o a volte due. All'inizio, vi consiglio, conviene scegliere quella che vi dà più reputation anche se vi daranno meno soldi. Ma fidatevi, fra un po' dei soldi non ve ne fregherà più niente. Esistono diversi tipi di missioni trasporto passeggeri. Ci sono i turisti che vogliono andare a vedere qualche remoto planetoide o altre fesserie e che pagano in base alla distanza che dovrete percorrere. È allettante vedere missioni con un payout di 20 milioni o più. Almeno fino a quando non scoprite che la destinazione è tipo al centro della galassia o roba simile. Volete un consiglio? Lasciate perdere per ora. Non ne vale la pena, intendiamoci. È una strada che può essere molto interessante e soddisfacente dato che niente vi vieta di fare anche exploration mentre portate in giro i turisti. Però, per farlo come si deve, secondo me ci vuole un'anaconda full optional. Almeno. A noi interessa un particolare tipo di missioni. Esistono alcuni sistemi che non sono direttamente raggiungibili con i salti iperspaziali, ma vanno raggiunti tramite supercruise da un sistema relativamente molto vicino. Parliamo di milioni di secondi luce e viaggi in supercruise di mezz'ora o più. Scoprirete che le missioni di trasporto verso queste destinazioni pagano tantissimo. Parliamo anche di 5, 8 o 10 milioni a botta. E, cosa ancora più importante, le missioni si trovano a pacchi, anche concentrate in un'unica stazione ad un salto di distanza da questa destinazione lontana. Quindi, il segreto è questo. Io mi sono piazzato nel sistema Parutis, più precisamente nella Evans Station, ma non è l'unico, eh? Voi potete trovarne altri uguali. Lì troverete un sacco di gente che vorrà andare a vela dock nel sistema MEDB, che si trova a un salto e circa 40 minuti di supercruise di distanza. Se trovate abbastanza missioni verso vela dock, potete addirittura scegliere quelle con il payout più alto. L'importante è cercare di riempire la nave il più possibile. Alla fine questo giochetto potete farlo in teoria con qualsiasi nave che possa montare cabine per passeggeri, ma naturalmente più posti avrete e più guadagnerete per il viaggio. Io ho usato la Beluga Liner, che è la nave passeggeri più grande del gioco per ora, ma se non avete i soldi per comprarla, che costa circa una settantina di milioni, potreste anche ripiegare su un'orca o su una dolphin, che sono più piccole ma funzioneranno egregiamente, anche se magari ci metterete un pochino di più per sfondare, diciamo. E sappiate che non vi servirà alcun modulo particolare, oltre alle cabine passeggeri, quindi potete evitare di fare qualsivoglia upgrade dai moduli base per ora e risparmiare. Se avete una nave capiente e non riuscite a riempirla con le missioni a disposizione, potete sempre usare la simpaticissima tecnica del board flipping, che vi vado ora a spiegare. Dopo aver accettato tutte le missioni che ritenete convenienti verso la vostra destinazione preferita, tornate al menu principale e cambiate gruppo, oppure cambiate da open play a solo play o viceversa. Una volta rientrate in gioco, noterete che le missioni sono cambiate, e quindi potrete accettarne altre. Repeat, profit. Ricordate di scorrere le missioni di tutti gli agenti. Insomma, con questo metodo potete guadagnare anche 70 milioni a viaggio. La parte del super cruise è una palla peggio dell'exploration, ok? Ma è qui che entra in gioco il metodo dell'AFK. Le uniche raccomandazioni per fare in modo che fili tutto liscio sono abbiate cura di avere sempre abbastanza soldi per pagare il premio dell'assicurazione in caso la vostra nave venga distrutta. Non si sa mai. Non accettate missioni con ricercati. Cercate di montare sulla vostra nave una cabina luxury, un paio di cabine business e il maggior numero di cabine first class che potete. Le economy non le ho trovate particolarmente utili. Montatevi un docking computer, e questo renderà il tutto molto più facile. Ricordate che i passeggeri reagiranno male a ritardi, infrazioni e multe, e soprattutto incidenti con altre navi o stazioni. Perciò guidate con prudenza. Nonostante la natura estremamente ripetitiva dell'attività, Elite Dangerous ci regala sempre qualche sorpresa. Infatti, in uno dei tanti viaggi una volta fuori dalla stazione ho trovato questa nave gigantesca che sarà tipo un incrociatore. Guardate che figata, guardate. È bellissimo. Ora che sono ricco penso proprio che mi comprerò un'anaconda super lussuosa. Ma questo lo facciamo la prossima volta. Per altre guide fighissime su Elite Dangerous e su altri giochi, iscrivetevi al canale avendo cura di attivare la campanella. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di tutto ciò. Vi siete arricchiti anche voi con questo sistema? Per ora Porpeller vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie a tutti.